Volevo dedicare questo mio intervento alla famiglia di Roberto, un postino giovane morto a 20 anni mentre recapitava la posta. Era un CTD, come lo chiamiamo noi, un contratto a tempo determinato, in parole povere, un precario. Vai postino in tutta fretta, c'è il mio amore che ti aspetta. Quante volte i lavoratori delle poste hanno letto questa romantica esortazione, ben evidenziata, sulle buste tra innamorati? Tante. Ma allora c'era il servizio postale universale, roba da altri tempi. Da 16 anni oramai le cose vanno in ben altro modo e non si può dire che vadano bene per il Paese. Nel 1993, infatti, i politici di allora votarono la legge per trasformare l'infrastruttura nazionale strategica più importante d'Italia in una normale società per azioni, a scopo di lucro e non di servizio. Ecco perché non ci si può meravigliare per quanto si viene a scoprire, che poi alla fine riproduce solo una parte delle tantissime denunce che il Cobas Ptcub ha esposto continuamente in tutti questi anni, componendo un volume di circa 700 pagine. Stupisce perciò che non si sia capito subito che il servizio universale postale è una cosa molto seria e non può essere frutto di improvvisazioni, frutto di accordi o appalti elargiti a destra e a manca. Come ha già specificato la mia collega di Milano, 13 morti nel 2008 e 5 morti solo nei primi mesi del 2009. A questi poi si possono aggiungere incidenti gravi e meno gravi. Colleghi che hanno perso la vita, ricapitando delle lettere, questo può sembrare strano e assurdo, ma è il frutto di scellerate strategie aziendali, condivise e concertate dai sindacati confederali. Però c'è un paradosso, che questi colleghi per le poste italiane non sono considerati morti sul lavoro, ma sono morti a causa di incidenti stradali. Come se il portalettere svolge col proprio motomezzo, cosa poi andiamo a dire? Alla mamma di questo giovane ventenne. Allora lo stesso potrebbe valere per i poliziotti. Muoiono durante un inseguimento, mentre inseguono appunto i banditi che li buttano fuori di strada. Insomma, io volevo citare alcuni colleghi. Ultimamente, Sergio è morto dopo il trasporto in ospedale, 48 anni, travolto alle 7.30 del mattino, mentre si trovava in sella al motorino delle poste, appena fuori dal centro abitato di Passirano, in provincia di Brescia. Alessandro, morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi di Cercola, vicino Napoli, mentre terminava il turno di consegne. E ancora Roberto, giovane ventenne, assunto a tempo determinato per tre mesi, mandato allo sbaraglio in zona con un motorino, nonostante l'affitta pioggia, senza che l'azienda si sia preoccupata minimamente di fornirgli un automezzo. L'ultimo, solo qualche giorno fa, Michele di Mantova, deceduto in servizio e investito da un'auto. Per l'azienda questa è una semplice casualità della vita. Per noi Cobas Ptcub invece non si tratta di semplice fatto o destino segnato. Da anni cerchiamo di far prevalere la cultura dominante di quanto sia importante la sicurezza del mondo del lavoro e quanto siano necessarie tutte le precauzioni essenziali nel luogo di lavoro. Luogo dove purtroppo negli ultimi anni, a causa di progetti di sfruttamento, ristrutturazioni, razionalizzazioni in nome del profitto, alcuni colleghi sono morti sul lavoro, sono morti per il lavoro. Chissà perché poi dell'oscurantismo dei mass media nazionali al riguardo. Mai una notizia, mai un trafiletto sul giornale. Ebbè, forse perché troppo ghiotti sono gli introiti pubblicitari incassati per conto di poste. Questo mi chiedo, questo ci chiediamo. Nel settembre 2006 un accordo tra azienda e sindacati concertativi riorganizzava la struttura del recapito, stravolgendo quello che era, prima di tali data, un lavoro tranquillo, che registrava solo qualche piccolo incidente sul lavoro. La nuova organizzazione del recapito è stata mirata solo ed esclusivamente, chiaramente per tranne profitti e non per migliorare il servizio del recapito. Tant'è vero che la prima cosa che è stata fatta è stato il taglio di 2250 postini e il conseguente ed inevitabile allargamento delle competenze territoriali di corrispondenza. Ora, se si considera l'aumento della densità urbanistica che è avvenuto in questi ultimi anni in Italia, e se si considera che il territorio italiano è rimasto tale e quale, ora i postini si trovano a lavorare di più e di conseguenza a correre di più per riuscire a rispettare l'orario di lavoro. Infatti, da questa data in poi, una parabola ascendente di infortuni, oltre alle morti succitate, ha investito la nostra categoria. E noi, Cobas, PtCub, guardando in lungimiranza, l'avevamo forse preventivato. Già in passato, qualcuno forse si ricorderà, avevamo relazionato alcuni dati sulla condizione di vita dei postali, sancendo da uno studio longitudinale torinese che associa informazioni anagrafiche, censuarie e sanitarie, che è la categoria dei postali, è quella che vive quasi quattro anni in meno rispetto alle altre categorie dei lavoratori. Io non l'avrei mai pensato. I dati ufficiali, comunque, sono questi, forniti dalla società. Riferiti all'anno 2008 parlano di 71% di infortuni avvenuti nel servizio del recapito. Volevo 71%. Il 14% nei centri di smistamento postale, il 3% per attività d'ufficio, il 12% nella sportelleria, i classici uffici postali. Chiaro che sono dati imprescindibili dai quali non si può non richiamare l'attenzione ad una maggiore coscienza sociale da parte di noi lavoratori ed un maggiore rispetto delle regole e della normativa vigente da parte dei datori di lavoro. Perché non si può morire lavorando. La vita è un bene prezioso, che non va assolutamente armonizzato in nome del profitto e del mero principio economico. La vita è un dono di Dio. Grazie.